Dobbiamo stare attenti a non chiuderci in noi stessi, nell'orgoglio, nei beni materiali, allontanando il cuore dal Signore e da chi soffre. Rischiamo di prendere la strada scivolosa che dal peccato arriva la corruzione, dalla quale non si può tornare indietro. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'omilia della Messa del Mattino celebrata a casa Santa Marta, commentando il brano evangelico della parabola del ricco e del povero Lazzaro inserita nella liturgia. Il ricco si sente sicuro dei suoi beni, dei suoi amici e perde l'orientamento, non riconosce più i limiti. Sa della miseria di Lazzaro, lo cerca quando è nei tormenti degli inferi, ma da vivo è felice e non gli importa di altro. Come dice Geremia nella prima lettura, ha ricordato il pontefice, è maledetto l'uomo che confida nel suo cuore. Cosa sentiamo nel cuore quando andiamo per strada e vediamo i sensatetti? vediamo i bambini da soli che chiedono le limosine. No, ma questi sono di quella etnia che rubano, che vado avanti, faccio così? Io credo che i sensatetto, i poveri, quelli abbandonati. Anche quelli senza tetto ben vestiti perché non hanno soldi per pagare l'affitto, perché non hanno lavoro. Cosa sento io? Questo è parte del panorama, del paesaggio di una città, come una statua, la fermata del bus, l'ufficio della posta e anche i sensatetti, è parte della città. È normale questo? Stai attenti. Stiamo attenti. quando queste cose nel nostro cuore risuonano come normali. Ma sì, la vita è così. Io mangio, bevo, ma per togliermi un po' di colpa do un'offerta e vado avanti. La strada non va bene. Grazie. 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 Grazie.